In compagnia del nuovo pilota della Minardi, l'olandese Dormos. Sì, 23 anni, la prima volta sulla griglia di partenza, un sogno che diventa realtà e vicino c'è anche una Ferrari. Sì, il mio sogno diventa realtà, così vicino di Rubens non mi aspettavo, sono molto contento di cominciare la mia prima gara Formula 1, in particolare che sono davanti a mia ex compagno di squadra nella Jordan, allora non vedo l'ora di partire. Bocca al lupo! Crepi, grazie.